Riesca a meravigliarvi e a emozionarvi, è una cosa buona di applausi, e questo la dice Luca sulla passione e sulla voglia di impegnarsi su fatti concreti per dare risposte concrete a quelle che sono le nostre istante. Con Massimiliano abbiamo condiviso un percorso per me di tre mesi, per lui almeno di un mese in meno, però la straordinaria passione, la capacità di coinvoltimento che ha avuto Massimiliano, voglio dire che non sono le stesse facce o sempre le stesse facce, io ho incontrato tantissima gente nuova, questa la dice Luca sulla possibilità che Massimiliano è riuscito ad avere nell'animare e nel motivarvi per la condivisione di questo progetto. Questo progetto non è il progetto di Augusto Parasco, non è il progetto di Massimiliano di Pozzo, è un progetto vostro per la città di Pozzo, per farla rinascere, e questo lo possiamo fare così come abbiamo fatto fino al 25 maggio, e così come dovremo riconfermare con forza l'8 giugno. Non è in gioco il testo.